buongiorno a tutti allora oggi due call news perché devo mettere le news nuove ho preparato la listona adesso devo scegliere che cosa andrà in news e che cosa andrà in call news per il mese di giugno diciamo così più o meno però devo ancora inserirle quindi vi dovete accontentare intanto magliettina del gigione eccoci qua allora avviciniamo piano piano poi piano piano andiamo su eccola qua magliettina del gigione per la settimana e andiamo a vedere di che cosa parleremo di questo primo video di call news parleremo di scavare un tunnel e non aggiungo altro dopodiché parleremo di un'attrice figlia di un bravissimo attore che si chiamava vittorio ma non è vittorio desica e non è vittorio gasman è un altro che c'è un cognome come un'ora del giorno e lei la figlia molto brava poi parleremo di un attore che ormai ai suoi anni però diciamo che ai tempi era un bel uomo ecco l'italiano si chiama fabio è avanti con gli anni e diciamo che è stato intervistato e ha detto naturalmente sarò io a raccontarvi quello che ha detto come ha sempre per evitare problemi con di vari genere anche perché dubbi per me non possono le per riprendere un intervista e mettervela sul canale perché se no mi fanno il mazzo a tarallo quindi posso raccontarvela io dire la fonte che sempre quella e infine concluderemo con una modella diciamo attrice modella eccetera eccetera che ricorda uno spot che fece tanti 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 anni fa e questa è un attrice di quelle libidine ok partiamo con il tunnel da scavare scavare un tunnel che passi per il centro della terra arrivi dall'altra parte lo abbiamo già detto è assolutamente impossibile o quanto meno lo sarà probabilmente ancora per molto 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 tempo ma se non esistessero i limiti imposti dalla fisica e potessimo davvero scavare un buco del genere dove sbucheremmo se vi viene spontaneo rispondere in australia sappiate che siete fuori strada indipendentemente da dove abitate in italia vi trovereste nel bel mezzo dell'oceano pacifico in un punto non meglio precisato a sud ovest della nuova zealanda se volete fare una prova potete collegarvi al sito www antipodesmap.com scusate ciò po di sangue dal naso oggi va beh un curioso sito web che vi mostra quale luogo del pianeta si trova esattamente agli antipodi rispetto a quello che avete inserito e così bastano pochi clic 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 per scoprire che la quasi totalità dei buchi scavati in europa sfocerebbe in mezzo al mar in mezzo al mar trovate le sirene al massimo trovate ariel che vi fa tutto 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 con la mia fortuna se lo faccio trova la strega è matematico solo alcune località della spagna centrale meridionale permetterebbero di sbucare in nuova zealanda in generale comunque bene prestare attenzione a dove si scava agli antipodi della maggior parte delle località del mondo occidentale si trova solo acqua quindi è una curiosità così è una cosa quasi impossibile al massimo può andare al centro della terra come dei film di jules verne anzi dei racconti di jules verne che poi sono diventati film veniamo a questa intervista questa attrice tra le interpreti più note del cinema italiano c'è senza dubbio giovanna mezzogiorno figlia di vittorio mezzogiorno l'attrice che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi premi tra cui un david di donatello quattro nastri d'argento tre globi d'oro due cerdoro due premi flaiano la coppa volpi per la migliore interpretazione femminile alla 62esima mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia per la bestia del cuore è stata recentemente intervistata dal settimanale oggi si fa per dire perché l'intervista dello scorso agosto 2022 in cui ha deciso di mettere un freno su alle troppe critiche circolate sul suo conto degli ultimi tempi cioè un addetto fa giovanna mezzogiorno risponde alla critica alle critiche sul suo conto e ringraziamo come sempre cinematografica per la libidina mentre invece l'altra notizia era di scienze e notizie nel corso dell'intervista al settimanale oggi giovanna mezzogiorno ha spiegato innanzitutto le motivazioni che l'hanno spinta dal 2011 ad oggi a centellinare i suoi progetti cinematografici rispondendo senza filtri alle critiche sul suo corpo ho avuto due gemelli ha raccontato mi sono dedicata a loro l'ho detto ma non basta mai se lavoro di meno partono le leggende metropolitane dicono che sto male che mi drogo bevo prendo psicofarmaci tra un po faccio pure le rapide ci sono anche i commenti sul mio corpo c'è stato un periodo in cui sono ingrassate allora è un colossale chi se ne frega oggi sono diversa racconta la mezzogiorno ho fatto attenzione a quello che mangiavo sport no che sono pigra ma ancora a chi importa conta che io il mio lavoro lo faccio bene ci metto tutto sempre queste le dichiarazioni dell'attrice nell'intervista inoltre giovanni a mezzogiorno ha ufficializzato la sua separazione dall'ormai suo es marito alessio fugolo dopo la fine del matrimonio devo girare pagina e anche lei zeno e leone così si chiamano i suoi due figli sono diventati per l'attrice romana ancor di più una priorità e infatti ha raccontato sono nati settimili pesavano un chilo e mezzo per i primi anni ho pensato solo a loro di giorno di notte sono la cosa più bella vorrei che non soffrissero mai li tengo lontani da internet dai cellulari dal brutto che c'è fuori spero che crescano se nevi sono già stato un'adolescenza abbastanza complicata io ha raccontato appunto giovanni a mezzogiorno certo che chiamare i figli zeno e leone vabbè ognuno c'ha le sue scelte magari qualcuno mi dice sono fiumi bellissimi gigi simpatici unici eccetera eccetera ma dopo la giovanna mezzogiorno che ha raccontato come sta vivendo adesso eccetera eccetera passato un attore che rimpiange un po al passato l'attore ripiange di non aver accettato la corte della tv per tanto tempo intervista del 12 agosto 2022 vediamo di chi parleremo stavolta parleremo di fabio testi che occupa un posto di assoluto rilievo nel cinema italiano dagli esordi come stuntman ai primissimi ruoli fino al vero successo il noto artista si è raccontato sulle pagine nel corriere della sera di quel successo oggi gli è rimasta una pensione da poco più di mille euro ma io ci credo poco però se lo dice lui fabio testi come vive oggi il grande attore come sempre ringraziamo cinematogra.it per la libidine pur non rilegando niente del suo passato fabio testi credo ormai 82 anni o quasi aspettate che controllo fabio testi quando è dato perché dipende dal mese se no vi dico che ne ho ancora 81 ma visto che l'intervista è del... ah no li farà il pro tra un mese tra un mese farà 82 anni il 2 agosto quindi tra meno di un mese farà 82 anni quindi pur non rilegando niente del suo passato fabio testi quasi 82enne ma l'intervista l'ha fatta l'anno scorso quindi ne aveva ancora 81 ha comunque sottolineato quanto gli stereotipi lo abbiano frenato lo vedono sempre come un uomo bello interessato solo a fare l'amore parla e recita in spagnolo francese e inglese a collaboratori con alcuna collaborazioni con alcuni dei maggiori registi sa guidare un aereo e ama la poesia secondo lui anche gli uomini di tanto in tanto sono vittima dei sessismi ma nessuno ne parla mai attualmente fabio testi vive nella propria tenuta di affi del veronese tra animali e alberi da frutto come un normale pensionato tira avanti con la sua pensione da 1100 euro al mese ha spiegato l'interprete che poi confessa in passato disegnato la tv ma ora ne ha bisogno per sopravvivere da qui la decisione di partecipare nel 2020 al grande fratello vip ha accettato solo per esigenze economiche ci ha messo mezzo secolo a farsi un nome e oggi questo nome va pagato la produzione del grande fratello lo ha pagato lautamente così ha detto sì accetterebbe di partecipare grade solo a un bel film a proposito di donne donare impianti malgrado la sua giovanissima fidanzata lo abbia di recente lasciato l'unico vero dispiacere riguarda la televisione tanto snobbata degli anni 80 e 90 rifiutò l'offerta di condurre domenica in chiedeva soltanto un copione una sceneggiatura a posteriori crede sia stato un errore a tal proposito c'era tamara benier una grande donna televisiva pur provenendo dal cinema bene ragazzoli e voi conoscevate fabio testi avete visto qualche suo film o tabula rasa proprio chi cazzo lo conosce della serie così perché d'altronde chi mi segue così dice il mio sito a tra i 16 e 25 anni per la maggior parte da una parte ripeto mi fa molto piacere perché vuol dire che il diversamente giovane piace ai giovani dall'altra però certi argomenti magari giovani mi fanno gg chi che ce lo conosce ma passiamo a un'attrice o meglio una topolona da paura kate moss ospite del programma radiofonico scusate il broncodiliace se il libididito pensando a che boss comunque che il boss è stato ospite nel programma radiofonico desert island discs di bbc radio 4 e ha svelato un curioso retroscena riguardo uno spot pubblicitario girato con google mark walberg lo shooting in questione era di calvin claim datato 1992 penso che su youtube lo trovate sicuramente ben trent'anni fa quando che il boss appena diciassettenne si affacciava nel mondo del fashion system degli anni 90 da lei definito per molti versi malato a causa delle pressioni subite in quanto giovanissimo modella ma non solo la 48enne ormai penso 49enne adesso guardo anche che il boss per curiosità eccola lì super modella non modella super modella esatto 49enne adesso perché è nata il 16 gennaio del 74 quindi a 49 anni adesso ma dell'intervista di un anno fa della 48 quindi la 48enne allora e 49enne oggi super modella inglese ha parlato di molestie di droghe e di magrezza estrema e del rapporto col suo corpo come sempre ringraziamo cinematogra.it o forse anche noi degli anni 80 per questo racconto apparsa su oltre 300 riviste pensate 300 riviste oltre ad essere coinvolta in modo marginale anche da alcuni progetti cinematografichi c come sbottonate 1995 zollander 2 2016 e in alcune serie televisive come french and saunders che ma sconfessa i microfoni della bbc nell'intervista condotta da laurent laverne di essersi sentita estremamente vulnerabile intimorita dalla situazione durante lo shooting per quello spot il cene del servizio fotografico la ritrae in topless assieme all'attore e all'epoca testimonial del brand mark wahlberg in uno degli scatti più famosi scusate il mio pseudo raffreddore i due sono abbracciati entrambi a petto nudo del collega che il mosse ricorda era molto bacio tutto ruotava intorno a lui aveva un grosso entourage io sono la modellina che non è il modellino dell'aereo ma la modella giovane i ricordi della modella non si limitano però solo a questo mi sono sentita oggettificata completamente e vulnerabile spaventata ha raccontato la modella penso che abbiano giocato sulla mia vulnerabilità ero piuttosto giovane e docente calvi lo adorava non mi sentivo per niente bene prima delle riprese per tipo uno o due settimane non sono riuscita ad alzarmi dal letto sono andata dal dottore lui mi ha detto ti do un po di volume e francesca sorrenti grazie a dio ha detto non lo prendi era solo ansia nessuno si prende cura di te mentalmente bene ragazzoli e dopo avermi raccontato di kate moss io credo che su youtube non lo so se lo trovate perché magari comunque vado a curiosare io pubblicità calvin allora cerchiamo che se lo faccio in diretta pubblicità calvin klein vediamo se c'è sì c'è se marco da un gol che è che boss 1990 su 2 calvin klein commercial poi c'è ossession con calvin klein calvin klein obsessed che il boss for di or ok gis che boss calvin klein osserva ossessi eccetera eccetera quindi trovate la bella case tranquillamente sia nella pubblicità per calvin klein che per altre pubblicità anche per di or per i gis eccetera 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 così vi renderete conto che topolona fosse e diciamo che lo è ancora tra virgolette perché ormai c'è una certa età però se una è bella teoricamente teoricamente molto teoricamente perché poi si cresce eh già ragazzoli io vi saluto vi ringrazio adesso vi faccio anche subito l'altro cool news spero di avervi incuriosito spero che magari andate a vedere la bella kate del 1992 com'era e naturalmente ci vediamo la prossima show house